Ciao amici, bentornati sul canale Giornali del Popolo Italiano. Ha fatto il suo debutto su Netflix nel febbraio del 2021 presentandosi come la versione moderna di una mamma per amica. Stiamo parlando di Ginny Georgia, la comedia di Netflix che ha fatto il pieno di views conquistando una bella fetta di pubblico che, però, è ancora in attesa di vedere la sua seconda stagione annunciata appena due mesi dopo dalla sua uscita su Netflix. Ma cosa sappiamo finora su questo secondo capitolo ancora inedito della serie con Antonia Gentry e Brianna Wee come protagoniste? Scopriamolo insieme. Ginny Georgia 2. Cosa sappiamo finora le riprese della seconda stagione della serie sono iniziate il 29 novembre 2021. La produzione è poi proseguita fino all'8 aprile 2021. A metà ottobre 2021, la pagina Instagram ufficiale dello show ha rivelato che si stavano preparando per la seconda stagione della serie. Tebra Fischer ha anche anticipato che la produzione si stava avvicinando pubblicando su Instagram una foto con Brianna Wee che diceva, la seconda stagione sta arrivando alla grande. Un post del 30 novembre ha confermato che le telecamere stavano girando e che la stagione 2 era in produzione. Le riprese si sono svolte ancora una volta a Toronto, in Canada, con Blue Beach Pictures, Critical Content e Dynamic Television tutte coinvolte nella produzione. Secondo un avviso pubblico sul sito web della regione locale, la serie è stata girata di nuovo anche a Coburg, in Ontario. Le riprese si sono svolte in città tra il 22 e il 25 febbraio. Le riprese di Ginny e Georgia si sono concluse il 23 aprile 2022, secondo un post su Instagram di Antonia Gentry. La showrunner Debra Fischer ha detto che è stata una stagione 2 selvaggia. Chi c'è nel cast di Ginny Georgia 2? Tra le novità nel cast della serie c'è Aaron Ashmore, noto per X-Men e, più recentemente, Lock Key di Netflix, si è unito al cast per la seconda stagione nei panni di Jill Timmins. Ben Colwell XIII, The Musical, Marduk Mysteries, interpreterà la versione più giovane di Jill Timmins nello show nei flashback e Zarin Darnell Martin interpreterà la dottoressa Lily nella seconda stagione dello show. Il restante cast sarà uguale a quello della prima stagione. Quando esce Ginny Georgia 2 su Netflix, la seconda stagione di Ginny Georgia uscirà sulla piattaforma di streaming il prossimo 5 gennaio 2022 in tutti i paesi in cui è attivo il servizio. Visualizza questo post su Instagram un post condiviso da Netflix Italia, chiocciola Netflixit. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.